Un caro saluto a tutte e tutti i liberi ricercatori, i curiosi, le curiose e a tutte le anime che sono ancora in grado di capire che siamo stati ingannati fin dalla nascita, come sono stati ingannati fin dalla nascita coloro che ci hanno concepito. Prima di mostrarvi il video da cui ho estrapolato le analisi verificabili, vi invito a fare altrettanto perché si tratta del primo passo per capire il grande inganno perpetrato grazie all'indottrinamento iniettato nelle nostre menti con la scusa dell'istruzione obbligatoria. Per chi ancora non ha avuto modo di farlo, invito a prendere visione dell'interessantissima playlist Storia perduta della terra piana e scoprire che anche la storia è stata resettata poco più di un secolo fa. Stamattina ho fatto questa riflessione. Tutti i vecchi libri per chi sono stati stampati, se ancora negli anni 60 le persone andavano a farsi scrivere le lettere da altri. Perché quando ero piccolo, adesso ho quasi 70 anni, ho conosciuto molte persone che firmavano semplicemente con la crocetta perché non erano in grado di firmare. Uno di questi era mio nonno paterno. Eppure lui non aveva bisogno di saper leggere né scrivere, perché era in grado di guardare la luna e capire se era tempo di raccogliere o di seminare. Sentiva da che parte arrivava l'aria al mattino o al pomeriggio e sapeva se nei giorni seguenti pioveva o faceva il sole. Non come adesso, che ti mostrano le previsioni e non le indovinano mai. Lasciando perdere quelle di oggi, 16 maggio 2023, dove confermano che è una giornata pericolosa. Se ancora non siete a conoscenza, l'Italia è preda di un esperimento climatico. E poi l'altro aspetto è che siamo al centro di un esperimento planetario, chiamiamolo così, un esperimento di cambiamento del clima, del quale non sappiamo ancora quali saranno gli effetti nel lungo periodo. A disposizione avete la playlist Geo Ingegneria, che contiene tutte le ricerche in merito al meteo e che sono tuttora negate ancora nei libri di testo, ma chi conosce l'argomento che avviene quotidianamente lassù in alto nel cielo lo sa, mentre per chi tiene gli occhi abbassati sui device, per ricevere le info dal sistema, non vede nulla. Per inciso, il video che andiamo a vedere si tratta di una facile verifica che chiunque è in grado di portare a termine e dovrebbe condurvi a chiedere Ma è veramente così o è Dino Tinelli che sta manipolando per imbrogliarci? Mettete quel fottuto dito nella piaga e trovate la risposta da soli, da sole e scoprirete che l'imbroglio si è diffuso come una piaga attraverso gli insegnamenti di persone che non sono mai uscite da scuola e danno il patrocinio di nutrire le menti dei giovani con le teorie, non con la realtà. Ma nulla questi insegnanti sanno della realtà. E di fronte a questa semplice verifica che andiamo a vedere scattano i credo. L'eclisse smantella la terra piana. Ma siete andati a vedere tutte le voci che smantellano quello che viene insegnato su come funziona l'eclisse? E l'effetto Corioli? Beh, semplicemente andate a verificare che si tratta di una menzogna, come il pendolo di Foucault, Cavendish, Einstein, l'equinozio, eccetera. E se dovete commentare, spiegate perché si vede quello che dovrebbe essere nascosto dietro la curvatura, lasciando perdere rifrazione o altro perché avete tutte le spiegazioni anche di questo. Basta andare semplicemente sull'ampia playlist Curvature d'Orizzonte. E le foto dallo spazio? Beh, anche qui scorrete la playlist NASA Astronauti Matt Tori. Piccolo particolare. Se dopo un chilometro la curvatura nasconde il suolo di 7,85 centimetri, non significa che dopo 10 chilometri il suolo si trova solamente 78,5 centimetri più in basso. L'operazione va fatta moltiplicando sempre al quadrato e il risultato dopo 10 chilometri è di 7,85 metri. Su indice alfabetico trovate tabella, tavola trigonometrica della curvatura. E ci hanno e ci stanno ingannando su un sacco di altre cose. Fatevi questa domanda. Perché tanti video di Dino Tinelli non si possono condividere sui social, ma si possono vedere solo attraverso indice alfabetico? Chiedetevi perché. Qui vediamo il nostro amico al molo in una giornata abbastanza serena. Quello che vediamo qui è un ripetitore sull'isola Göl, isola dei Gabbiani. L'erba marron è alta circa un metro e ottanta. Vediamo dal molo di Selfridge quanto è lontana l'isola dei Gabbiani. 9,9 miglia pari a 15,93 chilometri. Qui l'immagine è allargata per darvi un'idea della località. La fotocamera che si vede qui è posizionata a 20 pollici dalla piattaforma, vale a dire 50,8 centimetri, e la piattaforma è a 48 pollici sopra l'acqua, vale a dire 121,92 centimetri. Praticamente l'altezza totale dall'acqua della fotocamera è di 68 pollici, ovvero 172,72 centimetri. Qui si vede il ripetitore ingrandito dentro la fotocamera. Non è nitido nonostante la giornata di sole, ma si può comunque vedere da quella posizione. Ma diamo un'occhiata e vediamo che aspetto ha attraverso la fotocamera. Questa è la fotografia scattata un paio di minuti prima. Si vede bene la punta dell'isola. La fotocamera è a 1,72 centimetri. Si vede chiaramente l'erba marrone da 10 miglia di distanza, ovvero da 15,93 chilometri. E adesso usiamo il calcolatore della curvatura terrestre online. Si tratta del calcolatore scientifico del globo, non del calcolatore di Dino Tinelli. Digitiamo 1,72 che è l'altezza della fotocamera dall'acqua e poi la distanza di 15,93 chilometri. Clicchiamo su calcola e si ottiene l'altezza nascosta di 9,93 metri. Quindi da questa distanza la parte inferiore del ripetitore dovrebbe essere nascosta e non dovremmo essere in grado di vedere l'erba. L'orizzonte dovrebbe essere più o meno a questa altezza, ma non è così. E il globo ancora una volta è smantellato. Grazie.